Benvenuto in questo video, ti voglio mostrarti l'interno del corso di corso chitarra solista questo è l'interno, siccome ho ricevuto diversi messaggi in seguito ai video che ho fatto messaggi che mi chiedevano ma che c'è dentro, cosa posso, cosa imparo impari tutto quello che ti serve, cioè tutte le informazioni che non puoi non sapere veramente che io ho appreso in varie scuole, questa è la pagina del corso in ogni corso è inclusa la teoria musicale perché altrimenti non, cioè se dobbiamo, non riusciamo a capire, se non conosciamo che cos'è la tonalità di mi maggiore, di do diesis minore, di conseguenza non possiamo improvvisare cioè non possiamo sapere, quindi è il minimo la teoria musicale, il minimo perché è un corso pratico, teorico ma pratico soprattutto quindi conoscere, improvvisare sugli accordi, conoscere la relazione scale-accordi creare dalle scale melodia, musicalità, frasi ritmiche efficaci su tutta la tastiera, sapersi muovere, conoscere i modi, ionico, dorico, misolite, olio soprattutto non imparare a sole a memoria, semplicemente cosa che va fatta ma imparare la tecnica di improvvisazione per costruirti tu, i tuoi assoli per divertirti a improvvisare sui singoli accogiri di brani, eccetera quindi aumenterai la conoscenza della tastiera, eccetera ti è valido, è valido questo, sia che tu faccia trovi sotto questo video il link, ovviamente, a questa pagina ti è utile sia con la chitarra classica, acustica, eccetera, d'accordo oltre alle lezze, sia col plettro che con le dita puoi fare ciao, benvenuto questa è la presentazione del corso in questo corso solista livello 1 ti faccio una premessa innanzitutto ti ringrazio per aver scelto la mia didattica questo corso tratterà partiremo dagli esercizi semicromatici a due dita, a tre dita per arrivare alle diteggiature diteggiature di scale maggiori da cui ricaveremo le scale minori e alcune scale modali come il dorico, il misolidio quindi vedremo dorico, misolidio ionico e olio le scale più diffuse la pentatonica, ovviamente che può essere suonare in mille modi differenti quindi se hai già conoscenze non di fermare qui perché io imparo da 35 anni e continuo ad imparare tutti i giorni quindi non si finisce mai di imparare quindi vedremo esercizi lavoreremo su queste diteggiature su porzioni piccole porzioni di mani o su tutta la tastiera e su vari punti della tastiera quindi in orizzontale e in verticale faremo collegheremo queste diteggiature trasporteremo le diteggiature in più tonalità faremo esercizi tratti da William Leavitt Berkley poche pagine per la tecnica per esercizi di tecnica fondamentali per di speed studio eccetera vedremo un lavoro di manipolazione della melodia quindi un lavoro scalare cose del genere fondamentale e lo applicheremo esercizi sulle scale su come ottenere suonarle in maniera efficace come fare musica e non dimitarsi a suonare una scala scendendo e discendendo ma fare musica applicando ritmi pause eccetera ora ti mostro l'interno del corso non lasciare il video ti faccio vedere tutte le singole lezioni fino ad arrivare all'applicazione nei dettagli applicazione sui singoli accordi delle diteggiature e quindi delle scale modali delle scale maggiori e minori applicazione su singoli coppie di accordi fino a quattro accordi a brani interi io l'ultima cosa è le diteggiature che useremo sono quelle del Kaged 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 ok il corso parte dagli intervalli studio degli intervalli ovviamente come per i corsi di armonia studio degli intervalli e delle tonalità perché stiamo suonando cioè lavoreremo quando improvvisi lavori su una tonalità ah fammi una solo in sol maggiore ma in che tonalità devo improvvisare no è in mi maggiore ti dicono o per divertimento tra amici o a livello professionale il video devi improvvisare a me mi dissero in la maggiore però parte da re re lidio vabbè eccetera quindi conoscere le tonalità ti spiego tutto le tonalità gli intervalli ti spiego tutto cos'è una seconda maggiore una nona altrimenti è difficile parlare un po' di improvvisazione gli intervalli esercizi base come ho detto cioè esercizi a due dita a tre dita con la pennata alternata capisci e ti spiego tutto delle combinazioni numeriche nei video poi c'è questo il trasporto delle diteggiature che ho messo online integralmente lo inserisco sotto il video come trasporto una singola diteggiatura capisci cioè tu dovrai imparare le diteggiature che ti ho messo qui della scala maggiore del gadget comunque sono diteggiature come le pentatoni dei box vedi 5 box quindi imparerai ti concentrerai su un singolo io ho preso il box più usato questo al settimo tasto ok e ti faccio vedere come lo trasporto in più tonalità questo video è online come collego le diteggiature per esempio il box al settimo tasto con l'ottavo vedi e ti mostro geometricamente le note da fare e l'esercizio in indavolatura e i video è una cosa fondamentale facciamo esercizi berkley sulle diteggiature cioè esercizi di velocità insomma varie cose tecniche per arrivare al cuore ai esercizi sulle scale tata 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 tersine quartine a esercizi musicali sulle scale quindi non limitarci a fare la scala in maniera solo ascendente per gradi congiunti ma tirando fuori musica dalle scale esercizi di velocità il corso c'ha lavoriamo sulla velocità poi sulla pennata alternata terzine, quartine sulle diteggiature delle scale sestine un lavoro prendiamo una diteggiatura sempre quella a settimo tasso è molto usata e facciamo vari lavori di sviluppo melodico usate negli... quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 salti di terze e di seconde facciamo un lavoro per esempio scalare di velocità pure sviluppo melodico in questo video lo vediamo lentamente è un lavoro scalare te lo insegno nota per nota vedi hai le trascrizioni da fare l'endamento in base alla tua velocità ora è una follia farle veloce quindi studiamo il dorico proprio teoricamente che cos'è il dorio da dove nasce come memorizzare una scalatoria che cos'è una scalatoria è una scala con le stesse alterazioni di una scala maggiore posta un dono sotto oppure è una scala minore naturale con il stesso grado innalzato eccetera spiego tutto come le tensioni diatonie cioè le note della cor insomma progressioni sul quale suonare eccetera in due video vedremo il modo ionico quindi con delle idee vedi e qui c'è una lezione un video progressioni sul quale suonare basi un bonus sugli arpeggi per esempio gli arpeggi maggiore settima collegati alla pentatonica cioè arpeggi suonare arpeggi e scala pentatonica combinata insieme capisci sono c'è anche il file guitar pro ok ti mostro tutto nei dettagli non lasciare il video perché vedi non so se gli arpeggi cioè ho unito arpeggi e pentatonica però nel video il video ti spiego nei dettagli poi suonare nove pentatoniche tutte le possibilità di pentatoniche da applicare agli accordi per ottenere un suono vari colori un suono alterato il modo dorico l'abbiamo non l'avevamo visto già modo dorico quindi tipiche progressioni del dorico tipici giri su cui studiamo il dorico vedi carlo sandano miles davis michael jackson steve valli josa trani beatles eccetera dei tipici giri su qua delle idee su come manipolare gli arpeggi le scale quindi due video bonus sempre ci sono dei bonus spesso nelle lezioni e quindi ulteriori idee melodiche cioè tipo vedi questo cioè sono delle cose da applicare sugli accordi ok poi il modo eolio che corrisponde alla scala minore naturale tutto spiegato esercitazioni teoria improvviseremo per esempio su Laila su Salt on Swing di Daya Streets ti spiego dove è contenuta un modo quali sono i brani tipici il misolidio tutta la teoria le progressioni esempi di assolo da studiare da scaricare questo corso è il nuovo corso solista perciò faccio questo video ho unito il corso intermedio che avevo fatto precedentemente con la nuova tecnologia cioè suonando come i video di youtube poi abbiamo un master sulle scale cioè come controllo velocità sincronizzazione cambio di corde spiegato in un video è molto insomma ti tiene il modo lidio ti tiene occupato parecchi anni applicazioni dei modi per esempio a un brano di Gio Satriani che fa una progressione in lidio fa una progressione in misolidio fa una progressione eolio per praticare ok delle basi sul quale vedi praticare decine di basi una assolo di Albaghiara Autunlis altri studi assolo di San Martà di Gilmour vari assoli in La Maggiore Dori in Lirio Misoli solo Gilmour stile Gilmour solo stile Benson insomma il Kajed spiegato in Donalità di Do insomma proprio il Kajed le direggiature forma di C di A G e vedi scritte proprio sulla Pentadone giusto per conoscere anche il Kajed esercizi sui legati quindi sulle direggiature e te li mostro in due video insomma è abbastanza completo infine c'è teoria delle scale hai tutte le direggiature della scala maggiore minore dei modi la relazione accordiscale e la mia assistenza ci sono gli aspetti tecnico teorico musicale air training eccetera consigli io ti ringrazio per essere stato con me e ti aspetto all'interno del corso chiedimi nei commenti info tranquillamente o al mio sito giambierobruno.it ciao grazie grazie